La cintura, è utile? Sta registrando? Si ma riprendete la strada Dario Principe on board Il prossimo livello Vai E fermo Lo lasciamo andare un po' avanti qua Mi chiede un passaggio Rally con che macchina? Subaru con Mitsubishi 200 Guarda che non è il tuo turboviser Vai Scusa, sei abituato a monovolume Ci fermiamo per il gelato Sì 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 bella Dario bella una dimara troppo più su colmone ok mi importa bandiera tra che le messe alle randine lui è il driver e la faccia è david super stai av che permette sei minuti ok 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 se prendi uno mino 50 punti ma come mai hai smesso di correre? la moglie i troppi stavano la moglie hai detto se corri ancora tiro un po' anche perchè la moglie la figlia è nata la figlia o me o il rally è un po' più forte di tempo ma non è malaccio ma non è malaccio è anche quindi facciamo tutto anche lui sta registrando no? va bene va bene va bene va bene va bene